No, penso che sia fondamentale vincere perché è uno scontro diretto e perché io ho fiducia in questa squadra e penso che una partita fuori casa, se c'è una partita fuori casa da vincere, deve essere questa. Quindi speriamo di fare un'ottima gara e cercare di ottenere i tre punti e poi piano piano pensare alla Juve e al Napoli. Io penso che l'unica strada è il lavoro, lavorare, andare oltretutto, penso che sia la cosa giusta, cercare di guardare avanti, di sapere che tutti, nessuno escluso, abbiamo commesso gli errori, cercare di, come ho detto prima, di commettere di meno. Per raggiungere l'obiettivo che sicuramente, come ho sempre detto, sarà molto difficile, ma sicuramente non è impossibile. No, penso che in questo periodo, oltre alla tattica che è sicuramente importante, bisogna entrare in campo con la rabbia di guardare la classifica e ritrovarsi lì sotto. Quindi se tu guardi la classifica due secondi prima, entri in campo con la rabbia di vederci lì, a me particolarmente non piace. Penso che ognuno di noi deve buttare fuori l'orgoglio e deve andare là a giocarci, diciamo, come ho detto prima, forse la partita più importante. Ehi,